Il Codacons ha organizzato per domani a partire dalle 13 nella sala congressa del Museo dell'Olivo Carlo Carli di Imperia un incontro con gli investitori di Banca Carige che hanno perso i loro risparmi a seguito delle note vicende della Banca Ligure. L'incontro fa seguito a un altro appuntamento simile tenutosi a Genova. I legali del Codacons hanno infatti dato il via a un'azione risarcitoria collettiva e ora stanno illustrando l'iniziativa ai risparmiatori al fine di raccogliere adesioni nel tentativo di far ottenere a azionisti e obbligazionisti della Carige il rimborso totale degli investimenti è andato in fumo oltre al risarcimento del danno subito. Il Codacons ricorda che mancano pochi giorni alla scadenza del termine per aderire all'azione e per questo l'incontro di domani a Imperia sarà particolarmente importante.